Un grande ringraziamento a tutte e a tutti quanti voi, al Vicepresidente del Senato e poi al gruppo del Partito Democratico, alla Fondazione Buozzi e in particolare anche al Will. Io dirò pochissime cose, credo che siamo ancora tutti emozionati da questo squarcio che abbiamo aperto sul ricordo di Nenni, un politico che aveva dietro di sé la forza di una famiglia ed un politico dai grandi valori umani, dal grande rigore morale, dalla forte tensione ideale. Abbiamo come fondazione cercato con questa terza edizione di contribuire a dare dei riconoscimenti importanti. Uno, il premio speciale a Giuseppe Tamburrano, è stato già detto molto bene, per me è un vero, grande e caro amico, nei confronti del quale anche una grande riconoscenza perché è un'amicizia antica dagli anni Sessanta, un'amicizia quando la Will non poteva organizzare i socialisti perché c'era un vincolo nello statuto del Partito Socialista fino all'unificazione del Sessanta Sei in base alla quale chi era socialista doveva essere iscritto automaticamente anche alla CGL. Io ho conosciuto Giuseppe Tamburrano quando era a Palazzo Chigi, c'era il centro-sinistra, era consigliere di Pietro Nenni, ho conosciuto, si è realizzata una grande amicizia, abbiamo lavorato sin da allora perché, come è stato ricordato da Valeria Fedeli, è un professore, ma è un grande politico, è anche una delle persone che è stata decisiva nella realizzazione dello statuto dei lavoratori, quindi Nenni quando i socialisti andarono al governo con il centro-sinistra posero come condizione che ci fosse il riconoscimento di uno statuto dei lavoratori e con Tamburano, con Giugni, con Brodolini cominciamo a lavorare e poi ci trovammo nella stessa famiglia nel Sessanta Sei perché con l'unificazione socialista cadde quella clausola e quindi la gran parte della Will era socialista, diventò socialista e è rimasta socialista con molto orgoglio. e Tamburano ha dato anche un contributo all'elaborazione storica della Will, quindi noi lo conosciamo perché è senz'altro il più autorevole interprete di Pietro Nenni, ma ha scritto anche molte altre cose importanti che voglio ricordare, ha scritto su Gramsci, ha scritto una bellissima intervista nel 1977 a Pietro Nenni, molto bella, ricca di umanità, di spunti, di notizie e poi non dobbiamo dimenticare che ha fatto una grande battaglia perché venisse valorizzata la figura di Ignazio Silone, quindi cosa importante, poi importante perché Ignazio Silone è stato anch'esso un protagonista nella storia del nostro paese e come Pietro Nenni è stato molto attento alle persone più povere, più umili, più distanti. Voglio ricordare qui, ad esempio, perché so quanto sia caro Ignazio Silone a Giuseppe Tamburano, per rappresentare quel mondo, così come abbiamo sentito il mondo di Nenni e il mondo di allora, perché noi parliamo di più del dopoguerra e meno di allora. Ignazio Silone per descrivere quella che lui è abruzzese, lui ha scritto Fontamara e ha scritto il dramma delle persone, dei braccianti, dei contadini che lavoravano. Ignazio Silone ricorda come uno di questi contadini, Michele Zampa, Cafone, perché si chiamavano Cafoni, Allora, quando parlava delle condizioni del lavoro nel Fucino, diceva, e questo l'ho sempre avuto presente, in capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra, poi vengono le guardie del principe, poi vengono i cani delle guardie del principe, poi nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla, poi vengono i Cafoni. Questo fa capire che persone straordinarie, Nenni, Turati, Di Vittorio, sono state coloro che hanno affrontato questi problemi. E Tamburrano ha proprio il merito di aver fatto conoscere Nenni anche dal lato umano, conoscere una persona non solo per i comizi che fa, ma anche per quello che è, per quello che è stato il suo stile di vita, per quelle che sono state le sue passioni, le sue illusioni, le delusioni e le contraddizioni. E qui, siccome voglio ricordare semplicemente due questioni. La prima, questo rapporto difficile tra Nenni e Buozzi, ma questa grande amicizia tra i due. Giuseppe Tamburrano mi ha regalato, quando ero ancora alla UIL, il testo del comizio che fece Pietro Nenni, il luglio del 1944, intitolato questo comizio, Cosa avrebbe detto Bruno Buozzi? La UIL si richiama fortemente allo spirito riformista di Bruno Buozzi, è un po' il suo punto di riferimento, anzi è molto il suo punto di riferimento. E in questo bellissimo comizio che fa nel 1944, ci sono delle cose che hanno un grande valore, un grandissimo valore, sono brevi. Ecco, lui dice, sulla Costituente, io credo che Bruno Buozzi avrebbe detto che se ce la offrono come un diversivo elettorale, se ce la promettono come un espediente che calma e attenua le impazienze, si sbagliano. La Costituente sarà una cosa seria e per essere una cosa seria bisogna che attorno ad essa il popolo monti la guardia senza un minuto di pausa. Perché sia una cosa seria, essa deve iscrivere nel suo programma tre rivendicazioni principali al torno alle quali il Partito Socialista chiama a raccolta tutti i cittadini d'Italia. La Repubblica, prima di tutto. Il processo ai responsabili dall'abuso di potere che va dal 28 ottobre al 22 al 10 giugno 40. Noi attendiamo dalla Costituente che dia una nuova assisi economica al Paese basata sulla democrazia dei consigli. La fonte della nostra salvezza è nel lavoro, l'organizzazione del lavoro e nei consigli di fabbrica, di azienda, degli enti pubblici e privati, delle associazioni operaie e contadine, dei tecnici e del fronte unico del lavoro al quale devono partecipare tutti coloro che vivono del lavoro. Ancora, brevemente, voglio ancora qui, Nenni era uno straordinario oratore, lui chiedeva che ci fosse un forte impegno per la liberazione d'Italia e che ci fosse anche il significato di una discontinuità. Valeria Federi ha ricordato il voto alle donne del 1946 e noi non possiamo dimenticare che ci sono state delle donne straordinarie che hanno operato, e ne voglio ricordare sul campo dei diritti civili anche la Lina Merlin. E termino con un'ultima citazione. C'è un altro libro di Giuseppe Tamburrano, Pietro Nenni, è un libro nel quale viene raccontato, descritto Nenni nella sua vita, nelle sue passioni, nelle sue passioni, nelle sue proposte, e c'è una cosa sulla quale voglio dare anche una mia testimonianza personale. Il libro di Tamburrano si chiude con la morte di Nenni. La sera prima aveva giocato a carte in casa e la mattina dopo il cuore si era arrestato. Con Tamburrano eravamo andati a trovarlo alla vigilia di Natale. Il Partito Socialista era la vigilia di una grande rottura alla fine del 1979. E ho un ricordo di come Nenni diciamo ci spingeva ci diceva di salvaguardare l'unità del Partito come riaffermava questo valore. E poi morì. Allora qui racconto praticamente nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio c'era da organizzare i funerali bisognava organizzarli eravamo sotto le feste e allora Craxi mandò a chiamare Marianetti me sentì il suo amico Lama perché dice qui se facciamo il funerale voi ci date una mano per avere una presenza importante e noi eravamo preoccupati anche allora era difficile con le feste che si potesse avere una presenza e consigliamo anche Craxi di fare il ricordo a piazza Augusto Imperatore perché era una piazza importante ma era per noi fondamentale che ci fosse una presenza la sorpresa quale fu qui non parlo io do la parola a Tamburrano e vi leggo quello che lui che lui ricorda ricorda ma c'è anche il film c'è anche un filmato che racconta i funerali di Nenni scrive Tamburrano la gente semplice sbucava dalle strade e si fermava le transenne tanti le scavalcarono e si misero in fila una fila che diventò interminabile di cui si sentiva solo sui lungo tevere battuti da un vento gelido il rumore dei passi qualche singhiozzo e qualche viva Nenni poi qualcuno fischiò l'internazionale altri fecero eco e sommesso e solenne l'inno si levò dal corteo ciao Nenni concluse Craxi la sua orazione espresse i sentimenti dei borghesi e dei popolani che affollavano la grande piazza augusto imperatore ciao perché tu resti resti qui con noi i lavoratori quel giorno hanno pensato e detto come tu speravi è morto uno che non ci ha abbandonato mai grazie grazie